Amici nati di Spezia, Spezia che torna da Bari con un punto. Siamo arrivati alla fine di queste tre partite, tre partite importanti in una settimana. Modena, Feralpi in casa e Bari a consuntivo, due punti in tre partite. Bilancio assolutamente insufficiente per puntare alla salvezza diretta. Persa un'altra occasione quest'oggi. Ero curioso di vedere le Aquile dopo la sconfitta, brutta sconfitta in casa contro la Feralpi, dopo cinque risultati utili consecutivi, ero curioso di vedere la squadra quest'oggi. E la squadra del primo tempo, devo dire, messa in campo sicuramente meglio rispetto a quella contro la Feralpi, con una sorta di 3-5-2, con Iagliello che poi svariava un pochino. Una squadra al primo tempo sicuramente più convincente rispetto ad altre uscite e, ripeto, nell'assetto tattico mi ha sicuramente convinto di più. Infatti credo che, guardando le cose positive di quest'oggi, sicuramente ci sono due fattori. Cioè che la difesa titolare è Tanco, Risto e Nicolau. E che al centro campo, tutto sommato, mi è piaciuto molto Nagy con Iagliello e Cassata, con, appunto, Elia a fare l'esterno sulla sinistra e Matteio libero di svariare sulla destra. Matteio oggi uno dei più positivi, probabilmente insieme a Iagliello. Ma lì ci arriveremo tra poco, quando andremo ad analizzare proprio la partita. Primo tempo che lo Spezia sicuramente ha gestito in maniera migliore rispetto ad un Bari. Un Bari in crisi, un Bari contestato, un'annata sicuramente tribolata anche per questo Bari. Per questo probabilmente oggi è sicuramente un'occasione persa l'ennesima nell'economia di questo campionato. Però come dicevamo prima, Spezia che sicuramente nel primo tempo gestisce la partita meglio del Bari, ha tanti calci d'angolo a disposizione, senza rendersi mai pericoloso. Questa è un'altra chiave di lettura, una quadra che ambisce alla salvezza, deve sfruttare assolutamente le palle inattive. Spezia che non le sfrutta praticamente mai, e qui, ripeto, si torna indietro sempre di un anno e mezzo all'incirca. Spezia che non ha mai sfruttato le palle inattive per cercare qualche gol sporco anche nella mischia. e alla fine con le occasioni di Cassata, entrambi le occasioni con un tiro da fuori aria di Cassata, alzato sopra la traversa dal portiere del Bari, e un altro tiro sempre da fuori aria, sempre di Cassata, con un'altra buona risposta da parte del portiere del Bari. Si va alla ripresa con le prime note dolenti, purtroppo, per lo Spezia. L'allenatore sicuramente, dal mio punto di vista, non ha letto bene la partita, nel senso che va a togliermi Ghiagliello, che abbiamo capito, probabilmente, il mister ha capito che l'utilizzo di Ghiagliello esclude quello di Salvatore Esposito, e va proprio a cambiare Ghiagliello con Salvatore Esposito. Altra nota negativa, sicuramente di serio, che stava lavorando tutto sommato bene, si è infortunato, problema muscolare, quindi probabilmente perderemo anche di serio, e questa è una gravissima perdita per lo Spezia, perché davanti, sinceramente, è una squadra senza né capo né coda. Oggi più Esposito si è dato da fare, ma ha avuto mille, mille, mille difficoltà. Falcinelli, rispetto alle prime uscite con lo Spezia, sembra sicuramente una fase un pochino più di stanca. Moro, anche oggi, sinceramente, è entrato. Si è fatto ammirare per due o tre falli gratuiti che hanno regalato al Bari ampio respiro, soprattutto nell'ultimo periodo di gara, quindi davanti lo Spezia ha grandissimi problemi. I cambi che ha effettuato Mr. D'Angelo non hanno apportato nulla alla causa, purtroppo, e questo è un altro dato di fatto negativo, e soprattutto nella squadra, se proprio ho visto l'atteggiamento negli ultimi 20 minuti della squadra, a parte la tenuta atletica imbarazzante che purtroppo ci trasciniamo indietro da non so quanto, io, sinceramente, dopo la gestione Tiago Motta ho visto uno Spezia che prima fisicamente, spesso era dominante, anche prima con italiano, usciva sempre alla lunga e riusciva a reggere comunque ritmi importanti da Tiago Motta in poi, sostanzialmente in questo anno e mezzo, ormai due, sinceramente lo Spezia cala, cala sempre vistosamente e atleticamente regala sempre qualcosa agli avversari. e questo calo ha ridato fiducia al Bari che trova poi il pareggio, dopo il bel gol di Mattei con un Iaghello spettacolare che va a pescare Mattei con questo taglio stupendo che prende, taglia proprio la difesa, Mattei se la controlla molto bene e va a concludere in rete, una delle poche volte che lo Spezia passa in vantaggio, se non che chiaramente dopo cinque minuti ovviamente subiamo il gol del pareggio che ridà fiducia ad un Bari fino a quel momento in difficoltà, fischiato anche dai propri tifosi e poi da lì la cosa più brutta è appunto lo Spezia che fondamentalmente ha dato l'impressione di accontentarsi del pareggio contro, ripeto, una squadra in un momento difficile, una squadra sicuramente alla portata dello Spezia e questo dal punto di vista mentale è una cosa che non mi lascia fiducioso perché lo Spezia oggi poteva assolutamente provare quantomeno a vincere la partita perché i punti che si lasciano per strada iniziano a essere tanti e mancano solamente dieci partite alla fine del campionato. Una squadra che mentalmente nell'ultimo anno e mezzo si è abituata a perdere e questa mentalità probabilmente non la cambierai mai fino a quando non andrai, penso a smantellare completamente la squadra, quindi ripeto, aspetti positivi, sicuramente l'assetto tattico del primo tempo che offre un pochino più di garanzia, anche il centrocampo mi è piaciuto di più, centrocampo meno lezioso, un centrocampo che tendeva anche un pochino ad andare un po' più in profondità e a palleggiare meno, cosa che poi purtroppo nel secondo tempo si è vista maggiormente con l'ingresso di Salvatore Esposito, ma quelli sono le sue caratteristiche, quindi se metti Salvatore Esposito chiaramente sai già che tatticamente devi giocare un altro tipo di partita, però ripeto, questa soluzione qui a centrocampo con Noji, Iagliello e Cassata sicuramente potrà essere riproposto anche perché Bandinelli sinceramente sembra un pesce fuor d'acqua, gravissimo fino a questo momento l'apporto di Bandinelli in questa squadra e Salvatore Esposito, ripeto, credo che se ogni tanto anche lui verrà avvicendato sicuramente la squadra potrà sicuramente farne a meno, quantomeno per provare a giocare un altro tipo di calcio, meno palleggiato e un pochino più da squadra che si deve salvare. L'altra nota negativa è aver fatto a Monire i due centrali di difesa di Cesare dopo pochissimi minuti, l'altro centrale dopo, diciamo, in circa cos'era il 35esimo, 40esimo minuto del primo tempo, lì lo Spezia poteva e doveva fare sicuramente più male, erano due difensori fisici ma molto lenti, si poteva provare qualche fraseggio in più, qualche ripartenza in più per provare anche lì a cercare magari la doppia ammunizione che avrebbe sicuramente agevolato lo Spezia in un finale che, ripeto, lo Spezia poteva sicuramente gestire meglio e poteva sicuramente provare a vincere questa partita. A consuntivo sono finite anche le altre partite, lo Spezia, a mio modo di vedere, quest'anno può solamente ambire a cercare di centrare il play-out e sicuramente non sarà un'impresa facile perché davanti abbiamo visto che hanno sicuramente allungato, il Cosenza è a 33 punti, la Ternana che è quint'ultima, ricordiamo sempre il gradino che ci deve essere tra quint'ultima e quart'ultima, sotto i 5 punti per poter disputare il play-out, ma la salvezza diretta è a 33 punti e per lo Spezia, a mio modo di vedere, fino a questo momento, per quello che ha dimostrato, 5-6 punti, come tanti mi lantano, come tanti dicono, si fanno 2-3 vittorie consecutive, le vittorie dello Spezia sono quelle che sono in tutte queste partite, quindi, ripeto, Spezia che dovrà lottare punto su punto, oggi si è accontentato di un punto, però qualcosina in più sicuramente si poteva fare. Sabato arriverà il Suttirol in casa, altra partita molto complicata, partita che sarà in stile Feralpi, Suttirol squadra molto, molto, molto fisica, che però si sta tirando fuori da posizioni di classifica brutte, lo ricordiamo a 31 punti, è già a 36, e quindi, insomma, è una formazione che si sta tirando fuori, verrà al picco a fare una partita ordinata, una partita fisica, una partita sporca. Lo Spezia avrà sicuramente grosse difficoltà, però lo Spezia, se si vuole salvare, con Suttirol, Ascoli e Lecco in casa, qualcosa in più dovrà fare sicuramente, senza un di serio, che purtroppo Temo ne avrà per un po'. La fortuna aiuta gli audaci, e non è un caso, che in questi ultimi due anni la fortuna non aiuti lo Spezia. Ci beviamo anche quest'oggi questo brodino, si sta avvicinando alla primavera, quindi poi i brodini invernali dovranno essere riposti nella credenza, e bisognerà cercare qualcos'altro, perché i brodini in primavera vanno sicuramente fuori stagione con l'alzarsi delle temperature. Noi ci troviamo per il prossimo video contro il Suttirol sabato prossimo, mi raccomando qui sotto nei commenti fammi sapere la tua opinione, fammi sapere i tuoi migliori e peggiori, se sei d'accordo con la gestione di D'Angelo nei cambi, nei subentrati, nella gestione, diciamo, del secondo tempo, e niente, se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale, e lascia un mi piace se ti è piaciuto il video. Ci vediamo al prossimo video, beviamoci questo brodino, l'ennesimo. Ma in tempi di magra, questo passa il convento. Ciao!